we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono xyuder e ragazzi come sempre un sacco di novità per tutto quello che riguarda la season 3 di fortnite oramai l'abbiamo capita bene cominciamo a droppare nei posti giusti i primi segreti sono stati scoperti ma tanta tanta roba sta per arrivare e che servirà a contribuire a migliorare il nostro battle royale nel video di oggi parleremo di un glitch davvero molto interessante per ottenere materiali infiniti in brevissimo tempo ma vedremo anche i nuovi bundle in arrivo e tanti aggiornamenti fatti nei codici sorgente prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e voglio riprendere da dove ci siamo fermati nel video news di ieri ovvero sia il signor aquaman ci sono stati moltissimi commenti e molte domande giustamente da parte vostra che mi dicono ma quando lo prendo aquaman come faccio dov'è ok ragazzi allora ve l'ho detto acquistando il pass battaglia si otterrà anche la possibilità di avere aquaman in cinque settimane dovremo fare cinque sfide per poi appunto una volta completate ottenerlo abbiamo innanzitutto le prime immagini del regalo che arriverà la terza settimana ovvero sia il tridente di aquaman un piccone davvero molto particolare unico nel suo genere è molto carino ma nel dettaglio come vi sto facendo vedere in questo momento andiamo a vedere che nella settimana numero uno ci hanno dato appunto la schermata di caricamento nella settimana numero due lo spray del tridente se guardate l'immagine è l'ultimo in basso a destra nella settimana numero tre prenderemo invece il piccone vero e proprio nella quattro il backpack il supreme shell quindi il primo la prima immagine in alto a sinistra e per terminare nella settimana numero 5 35 mila punti esperienza e automaticamente anche la skin di acquaman quindi tanta roba ragazzi non abbiate fretta e sicuramente la otterremo tutti ma andiamo avanti a parlare di un altro argomento di oggi perché ci sono delle nuove informazioni su questa location misteriosa che sta veramente sulla bocca di tutti per quanto riguarda i forum dedicati a fortnite le pagine di reddit e quant'altro è una location enorme vista così l'abbiamo già associata all'evento o comunque a con tutta tutta la storyline che sarà di acquaman forse contro black manta ma sappiamo finalmente che sarà suddivisa in tante piccole zone innanzitutto la location ha un nome finalmente si chiamerà the ruins quindi le rovine ora io non so se vogliano magari sai fare qualcosa tipo rovine tipo atlanti dei presenti tridenti città sommersa roba del genere ma quello che sappiamo che ci sarà un tempio ci saranno dei monumenti ci sarà una camera segreta giardini cascate il centro insomma si prospetta un qualcosa di veramente grosso a livello di location arriverà non si sa quando secondo me dovremmo aspettare almeno due o tre settimane perché usciranno lo starter pack poi probabilmente uscirà anche il pack dps plus e tante altre cosine insomma staremo a vedere qualche novità io ve la dico sempre e andiamo avanti perché invece c'è una grande novità nuovamente ieri pomeriggio hanno aggiornato le stringhe riguardanti il bundle di marshmallow sappiamo che nei bundle che arriveranno in queste settimane oltre appunto allo starter avremo loser fruit ne avremo uno che sto per farvi vedere avremo il plus e c'è quello di salva al mondo potrebbe anzi quasi certamente tornerà anche marshmallow quindi un'occasione per ottenerlo appunto come skin non farsela scappare una delle skin più amate diciamolo di fortnite che ha avuto un successo enorme e andiamo avanti perché invece volevo parlarvi di un'altra cosa curiosa ve lo ricordate il fungo che vi ho fatto vedere anche credo il primo video penso l'ultimo video della season 2 e che poi vi feci vedere anche un mese e mezzo fa quel fungetto lì ragazzi ha qualcosa di particolare perché abbiamo capito che in realtà non farà le veci dei pezza quindi si pensava che volessero introdurre nuovamente gli animali da compagnia che ci seguivano per la mappa in realtà non sarà così però abbiamo delle informazioni aggiuntive e sappiamo che ci sarà una skin che si chiamerà mushroom quindi fungo potrebbe essere qualcosa di associato sappiamo anche il nome si chiama crescent shroom la descrizione dice the master of mushroom enters the fight il capo dei funghi entra nel combattimento le varianti perché c'è normale e c'è anche brillante abbiamo anche il backpack che si chiama bello bag e la descrizione dice fit for a mushroom king è fatto per il re dei funghi e il piccone che si chiama mad cap e che vuol dire praticamente capellaio matto in poche parole penso che voglia riprendere appunto la parte alta del fungo il fatto che ci sia quel fungato lì in giro una skin secondo me potrebbe essere qualcosa di interessante su una nuova side storyline quindi qualcosa del genere tipo gli orsi contro gli gnomi è presente probabilmente anche qua sapremo qualcosa di più ma di immagini ancora non ce ne sono andiamo avanti invece perché questo è tanta tanta roba ragazzi uno dei nuovi bundle di cui vi volevo parlare un pochettino più che bundle lo chiamerei pack dovrebbe essere il nuovo pack tipo il frozen legend il lava legend e tutti quelli che conosciamo di già non sono inserite queste skin sotto le cartelle dello shop quindi non usciranno mai nel negozio ma probabilmente anzi sicuramente usciranno insieme qua vi faccio vedere solo le skin ma intanto ve le faccio vedere anche in game mentre scambiamo quattro chiacchiere su questo bellissimo bundle come vedete c'è la variante bianca quindi degli spettri si ritorna ancora la season 2 e con la testa d'oro della gente del caos sia con la maschera che senza maschera e appunto le varianti sia degli spettri che delle ombre ma abbiamo anche le altre due skin che sono davvero molto molto carine la prima è la ragazza che si chiama ghost hash quindi hash l'avevamo già vista molto bella anche nella variante degli spettri e altrettanto bella nella variante delle ombre devo dire che è un set che mi piace davvero tantissimo ragazzi è perché rivedendoli in questi in questi secondi insieme a voi e tanta tanta roba poi una delle skin più belle che secondo me abbiano mai fatto su ep games wild card quindi quello che caratterizzava la modalità fuga tanta roba ragazzi se dovesse uscire già lo sappiamo secondo me stiamo sui 19 euro e 99 ma appena avremo delle informazioni le avrete che voi e dovrebbero arrivare abbastanza presto perché i pack e gli starter escono subito all'inizio della season andiamo avanti perché vi anticipavo appunto all'inizio del video che c'era un metodo per ottenere maz infiniti in game è un glitch praticamente potrebbe anche già essere stato fissato in queste ore dove vi sto parlando per capire come fare vi faccio di nuovo vedere uno spezzone vi dovete dirigere ragazzi a gatto grill e come vedete dove c'è la pompa di benzina guardate la minimappa in modo che potete capirlo bene la pompa come vedete ragazzi rimane ferma sul punto di esplodere con uno di vita ma in realtà si può farmare metallo all'infinito questa è una cosa davvero interessante ed è una cosa che adesso che c'è questo glitch potreste sfruttare anche perché gatto grill è una delle location con il lutto più interessante il fatto che potete già andare full di metallo in pochi secondi la rende ancora più appetibile attenzione c'è anche il cavo quindi tanta tanta roba chiudo ragazzi il video di oggi facendovi vedere una novità molto molto interessante per tutti quelli che seguono la parte un pochettino più tecnica dei miei video news è iniziata di già la fase di test per la patch 13.30 quindi tanta roba ragazzi vuol dire che la 13.10 e la 13.20 sono completate non ci saranno ritardi nell'uscita di queste prime due aggiornamenti che non sono dei fix sono proprio delle patch quindi probabilmente vedremo i nuovi stage della mappa e addirittura appunto loro stanno già lavorando sulla 13.30 la stanno già testando quindi finito il test andranno avanti sono molto molto fiducioso come vi dicevo che questa season non dovrebbe subire gravi ritardi per la sua conclusione prevista appunto ad agosto insomma ragazzi anche per oggi io tutte le news ve le ho dette vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao